è un piacere un onore essere anche oggi con voi ciao da mauro 25 marzo oggi è l'annuncio del concepimento di gesù vediamo i compleanni nel mondo dello spettacolo della musica in questo caso 25 marzo del 47 nasce il cantante inglese elton john è come non ricordare la tigre di cremona la più brava cantante italiana di sempre è nata il 25 marzo del 1940 anna maria mazzini o veromina l'aforisma del giorno e poi andiamo incontro all'oroscopo le cose non sono mai così terribili da non poter peggiorare è una frase di antonio fogazzaro buona fortuna con i 12 segni di oggi ariete non siate così polemici per ogni cosa non ne vale la pena e rendete opprimente l'ambiente intorno a voi datevi una bella calmata se avete la luna per traverso non è il caso di tormentare anche gli altri siete troppo istintivi e per niente diplomatici toro vi sentite molto rilassate oggi vi muovete e agite come se il tempo non dovesse mai trascorrere qualcuno cercherà di smuovervi ma voi continuerete imperterriti con la vostra flemma il mondo corre troppo non vale proprio la pena di affannarsi no gemelli estremamente impegnativa oggi sarà la vostra giornata sarete dotati di una buona lucidità mentale riuscirete a risolvere ogni problema che vi verrà sottoposto evitate di essere invadenti non fate prediche a chi non ha voglia di ascoltarle la vostra eloquenza vi sarà comunque d'aiuto cancro non createvi inutili sensi di colpa nei confronti di quella persona non siete voi responsabili se le cose non sono andate come desiderata è giusto che abbia fatto la sua scelta e se poi il risultato ottenuto si è rivelato diverso dalle sue aspettative non è comunque colpa vostra leone non nutrite risentimenti nei confronti di una persona che ha deciso di trascorrere un po del suo tempo in maniera diversa da quella che voi vorreste sarebbe invece opportuno da parte vostra comprendere che ognuno ha diritto al suo spazio senza dover subire le vostre critiche vergine la vostra lucidità mentale oggi coglierà al volo le situazioni che si stanno muovendo intorno a voi non esagerate però con la vostra continua analisi o rischierete di cavillare inutilmente perdendo tempo prezioso riuscirete particolarmente simpatici ad una persona che presto avrete modo di conoscere meglio bilancia sarete molto impegnati nel lavoro potreste dimenticarvi di chiamare una persona non suscitate dubbi e gelosie il vostro essere così coinvolti nelle cose farà sentire ambiguo il vostro comportamento e qualcuno potrebbe soffrire di acuta gelosia scorpione lasciate anche agli altri la possibilità di dire come la pensano qualcuno potrebbe aversela male per il vostro modo di fare un pochino accentratore potreste rischiare di far nascere una polemica senza fine cercate di usare una maggiore sensibilità nel rapporto con gli altri sagittario riuscirete ad avere la meglio in una discussione scoprirete così di avere tante persone intorno a voi che vi appoggiano per ringraziarli un invito a casa vostra con il vostro consueto stile cameratesco sarà per loro molto appagante siete maestri in queste cose capricorno dovreste cercare oggi di non prendere una posizione così decisa di difesa nei confronti di chi vi sta particolarmente a cuore potreste scoprire che effettivamente non meritava la vostra comprensione rimanere neutrali sarà quindi più opportuno acquario entrerete in contatto per motivi di lavoro con persone nuove si instaurerà una forte corrente di simpatia potrebbero nascere per voi nuove opportunità molto valide attenzione a chi in questo momento soffre di gelosia nei vostri confronti e quindi apparirà irrequieto pesci sarete combattuti tra il senso del dovere e la voglia di rimanere in casa con una scusa qualsiasi potreste tentare di scrivere i vostri stati d'animo per poterli poi capire meglio oppure potreste dedicarvi al disegno o alla pittura creatività